Hanno anticipato tutti e ne avevano bisogno, d'accordo in streaming, ma che importa? Il teatro ha ricominciato a respirare e lo ha fatto nella sua maniera, portandoci a riflettere, in questo caso con l'abbecedario della quarantena, regia di Emma Dante, sul palco tutti i suoi allievi della scuola dei mestieri. Un geniale viaggio dentro le paure, le suggestioni di uno dei periodi più bui degli ultimi decenni, tutti chiusi dentro le case, tutti blindati dietro quella quarta parete che però era diventata troppo opprimente, il teatro l'ha sfondata. A Palazzo Riso, per un numero ridotto di persone, lo farà nuovamente nelle prossime ore. Intanto l'assaggio del web è servito per riprendere confidenza con il consueto stile di Pamela Villoresi e del Teatro Biondo. Per dire al pubblico ci siamo, siamo con voi anche a casa, anche se non potete venire a teatro. E oggi, un giorno prima della riapertura del teatro, vogliamo chiudere questa attività di teatro online, che poi per fortuna sarà dal vivo, la vogliamo chiudere appunto regalandovi questo spettacolo dell'Abecedario proprio con i giovani, proprio per ripartire.